Lazio-Monza terminata a pareggio 1-1. Il Lazio gioca in casa sua, nello stadio olimpico di Roma, il Monza fuori casa e avviene questo pareggio dall'alto del cielo. Berlusconi si potrà riterrini soddisfatto perché sulla base delle statistiche sembra che il Monza abbia giocato meglio rispetto al Lazio. Per il possesso di padre maggiori passaggi nel numero maggiore, ma una previsione dei passaggi uguale a Lazio. Per la segnale di Lazio è stato Ciro Immobile nel primo tempo su rigore. Per il Monza invece è stato Roberto Galliardini. Un pareggio, questo è il risultato finale. Buona prestazione sicuramente, ma poteva fare meglio a mio avviso il Monza rispetto al Lazio. Il video termina qua, iscrivetevi e commentate. Ciao da Renato, non la vediamo.